I dati per target dell'anno solare 2018 delle reti generaliste italiane dopo aver visto i dati di ascolto dell'anno che sta per terminare per quel che riguarda il totale individui con RAI 1 al comando. Oggi ci concentriamo sui dati relativi ad alcuni target. In particolare partiamo dai dati relativi all'età dei telespettatori. I dati sono relativi sempre al totale giornata. Partiamo dai dati relativi ai giovanissimi, ovvero la fascia d'età che va dai 4 ai 7 anni dove vediamo che la rete più vista è Canale 5, ma con solo l'8,94% di share, seguita da RAI 1 con il 4,78% e da Italia 1 con il 3,61% di share. I bambini di questa età vanno in massa sulle altre reti il cui dato sfiora il 77% di share.Nella fascia di età da 8 a 14 anni sempre davanti Canale 5 con il 10,89% di share, a cui seguirai uno con il 7,97% di share, mentre fra i da 15 a 24 anni RAI 1 sale al 9,79%, con Canale 5 sempre al comando con uno share del 16,78%, mentre Italia 1 ottiene il 10,67% di share.Nella fascia di età successiva, quella cioè che va dai 25 ai 34 anni abbiamo sempre al comando Canale 5 con il 15,13% di share, con RAI 1 firma all'8,38% di share ed un dato delle altre reti che arriva al 55% di share.Cala ulteriormente RAI 1 nella fascia da 35 a 44 anni quando arriva all'8,19% di share, con Canale 5 al 16,35% e le altre reti al 54,89% di share.Sale la prima rete della RAI nella fascia da 45 a 54 anni con il 13,04% di share, ma sempre battuta da Canale 5 che ottiene il 17,36% e con le altre reti che scendono al 45,38% di share.Torna al comando RAI 1 nella fascia di età che va dai 55 ai 64 anni con il 17,78% di share, mentre Canale 5 si ferma al 15,15% e con un dato di tutte le altre reti. Canale 5 si ferma al 15,15% di share.